Questo festival non sarebbe mai esistito se non avessimo avuto da subito una interazione fortissima con il territorio sia con le amministrazioni che con le associazioni. Quest'anno finalmente siamo riusciti a vincere un vando. Questo significa che l'idea di società che propone soluzioni sostenibili ha finalmente una casa che è questa del Monte Pelle. Quest'anno Uau è stato attraversato anche nella parte di costruzione e quindi di montaggio da gente da tutto il mondo. Un festival sostenibile è un festival che dà innanzitutto protagonismo alle materie che possono essere riciclate e riutilizzate. Da quest'anno lasceremo questa grande struttura in bambù come monumento a foro della sostenibilità perché il bambù è un materiale ecologico sostenibile e che può fornire un grande supporto sia per le manifestazioni acquistiche ma anche per le costruzioni di piccole impasse. di aprire la strada di aiutarci in questa nascita in questo inizio l'Uau oltre al DJ7 propone performance live con danza, giocoleria e questa è l'unione di tante possibilità di condivisione. e questa è l'unione attenzione questa è l'unione e questa è l'unione più... Wow è simply wow Welcome to Wow 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.